Stadio Filippo di Tella, la partita del cuore. Con il cuore tutto per Vittorio Cea. Vastogidardi e i Paesi Limitrofi, tutti presenti allo stadio per ricordare questo splendido ragazzo che ci ha lasciato a 40 anni in maniera davvero prematura, sicuramente troppo presto. La forza con cui ha lottato contro una malattia subdola per tanti anni è diventata per tutti un grande esempio di vita. Vittorio era amatissimo a Vastogidardi, tantissimi amici, anche fuori paese, il calcio, la sua passione. Il lavoro in poste italiane lo avevano fatto conoscere e apprezzare davvero dovunque. Un ragazzo sornione, allegro, acuto, solare, sempre pronto alla battuta. La malattia non lo ha mai cambiato né è pesata sugli altri nei giorni in cui stava bene e quindi aveva potuto condurre una vita normale. Negli ultimi giorni tutto il paese di Vastogidardi è stato sospeso tra la speranza e lo sconforto. Poi si è spento tra le braccia dei suoi genitori e la sorella che non lo hanno mai lasciato, neanche per un attimo. Questa partita in suo ricordo è stata fortemente voluta dai suoi amici a otto mesi dalla sua scomparsa per onorarne il ricordo ma anche per aiutare con una donazione la Lilt, Lega Italiana Lotta al Tumore perché con la ricerca si alimenta anche la speranza ma soprattutto le aspettative di vita di chi lotta ogni giorno per sopravvivere. Ciao Vittorio, sarai per sempre con noi.